Sì, Squadra Terun Scalea, l'associazione è impegnata anche nel sociale, ci tenevamo a lanciare un messaggio di solidarietà perché è Natale per tutti, anche per chi magari è un po' più solo oppure vive uno stato sociale un po' più disagio, oppure perché no, gli anziani, per fargli un po' di compagnia, quindi questo giorno abbiamo deciso di muoverci tutti insieme omaggiando della nostra presenza un po' di compagnia anche queste persone. Grazie.